Le cooperative hanno deciso di cambiare la parte e adorare tutti i diritti che abbiamo confissato. Non vogliono più pagarti né la tredicesima, né la quattordicesima, né a posti di lavoro sicuro. Non ci danno più il lavoro perché fanno solo il terreno di loro per cambiare la cooperativa, per sempre dire lo sguardo che loro fanno, l'invasione fiscale ci va sempre di mezzo, sempre di mezzo all'operaio. E il gestore si manda tutti i giorni la polizia a venire e mangianellarci. Ma mi sembra giusto, corretto, al terzo millennio, oggi come oggi uno si manifesta per i suoi diritti e vengono e mangianellate, soprattutto in Europa. E una vergogna, libertà, 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 libertà.